Bella questa dai Artur? Meno male che lo criticavi eh! Quello eri tu! Vabbè adesso non puntualizziamo dai! Eeeh! Ah! Presa! Male bro male! Attenzione camara! Ma chiuso ottimo! Tranquilla si fa buona guardia qua non si scherza! Funzione di politano e gol sotto l'incrocio? Ma come? Nella realtà sembra una playstation e nella playstation sembrano una playstation che senso ha? Forza non vogliamo! Ah qua si finisce come i veri gironi! L'altra volta non avevano me tiro e gol! Oh grande! Allora bisogna dire? Siiii! Ecco! Dai Gokbong! Beh dai sarebbe stato troppo! Gokbong è solitaria! Non ci credo! Tiro e gol! Siii! Qualcuno ha guardato giusto a noi non si spiega! Azione loro ma Riccardo chiude! E brava Riccardino! Sono a palla me sono da solo tiro e gol! Ma che cos'è? Siiii! Ma è diventato un vero bomber! Ed è finita! Siii! È incredibile! Guarda sono terzo sene che hanno i miei di Champions League in quelli di Premier! Aspetta non ti far venire in mente di... Si diventerò un bomber anche di Coppa! Ah come la vedo male! Ma potrò venerla meglio se lascerete un bel like e vi iscriverete al canale attivando la campanella! Mi raccomando io sono contento e sono tutto gratis quindi! Inoltre devo ringraziare e salutare Ale Londa Steam che mi ha donato gentilmente un super grazie! Ciao! Se anche vorreste supportarmi e essere salutati all'inizio del video vi basterà cliccare sul cuore qua sotto e regalarmi un super grazie! Ovviamente verrete salutati e il vostro commento sarà messo in primo piano! Vabbè se volete se no fa niente! Non vi preoccupate! Sappiate che è lì! E se volete essere dei veri vano fan vi ricordo che qua sotto in descrizione esiste il link per il mio libro! Lo trovate su Amazon, le link sotto e in tutte le librerie! Ok ci siamo ora tocca al campionato! Sai cosa fare? Ovvio tranquillo! Beh con la Stoneville si era messa male infatti abbiamo preso quasi subito gol da Klamaric! Ma non potevo abbandonare i miei così sono riuscito a piazzare subito il mio pareggio! Che non ha lasciato scampo al Dibu! Cosa c'è? Non guardate amico! Ma è stato lo stesso Dibu che alla fine mi ha negato la gioia del gol! Ancora? Non sono io! Ci assomigliamo e basta! Mamma mia che fissazione! L'altra partita che abbiamo giocato è stata contro il Lins di Willy Gnonto che per fortuna non c'era! Meno male! Partiamo alla grande con un lancio di Arthur che trova me e io lo appoggio a Salah che insacca! Sul lopo succede più o meno la stessa cosa ma stavolta è momo a servire Gakpo! Ma poi tocca a me sul rigore e faccio centro e chiudo la partita con un bel 3 a 0! Rane fenomeno! Se non fosse stato bene il rigore non l'avrebbe mai segnato! Simpatico! Va che c'è la Champions con i Rangers! Oh cavoli scusa allora mi metto allerta! Bene mi piace già questa! Eh sì ma non mi vorrei dire che segni su! Tiro e se! Cosa? Sì! Non ci voglio credere! Intervento e se! Chiusura di Alexander Arnold! Sono ancora scommolto ma va bene! Ancora pala buona! Tiro e gol! Raga ma che cavolo! Sì! E' devastante! Salah per Gakpo fuori gioco! E vabbè dai non può essere sempre domenica eh! Ah ma come la dai! Oh calmati o da bomber ti faccio diventare Panky Nanner! Intanto beccati sto rigore e gol! Cioè ha fatto tripletta? Sì! Ho veramente perso le parole! Artur passala! Ho inciampato da solo che figura! Ah meno male che alcune cose rimangono uguali! Ultima azione! Uh peccato! Tranquillo è finita! Sì lo so mi vado pure a prendere il pallone! Oh si è fregato un pallone! Polizia! Ah no è vero per la tripletta! No non ci siamo ancora siamo dietro a Kane! Ah quel cane! Sì lo so ho battuta pessima! Preparati abbiamo la Carabao Cup! Ah si sempre con la Coppa Sudamericana! No è la seconda Coppa di Lega Carabao è lo sponsor! Sì va bene certo come vuoi dai iniziamo! Qui c'è ancora Conte! Eh già qua non avevo ancora litigato con nessuno Antonio la ghiaggiande! C'è anche il mio rivale in attacco! La volta non vincerà! Attenzione buona per loro ma Alexander chiude! Ah ah sono io capito? Alexander! Questa era peggio di quella di prima! Attenzione appaggione di Krudensky e Metacur sbaglia! Ho come una sensazione di déjà vu! Palla buona per me? Ah niente! Ah niente mi sa che dovevo fargli sentire la musica della Champions! Artur in area? Ah chiuso! Ah sta andando tutto troppo male non mi piace! Son! Uh Alison! Uh che avevo detto io che rischio! Attenzione Tiago ma sbaglia! Bene per la mia immensa gioia si va ai rigori! Bene famiglio gol! Sì ottimo! Parte Kane e gol ancora! Classico! Salah no sbaglia! Bene! Dai Sitch parata parata! Dai dai! Parto io e gol! Ah centrali si è spaventato! Ultimo rigore tira Artur! È finito abbiamo perso! Parte e gol! Sì grande Artur! Non ti ho mai voluto così bene! Dopo dopo giochiamo il derby contro l'Everton! Dopo l'errore di test di Salahio siglo subito grazie all'assist di Luis Diaz e incredibilmente finisce 1-0! Gol e tre punti! O meglio corto muso! Max dei poveri siamo contro i Rangers! Oh cavoli eccomi! Se vinciamo siamo aiutati mi raccomando! Ah bene almeno per le prossime partite facciamo in fretta! Forza forza si parte! E andiamo fria! Palle in mezzo Fabinho! Uh presa! Cavoli per un capello di Fabinho! Rangers in avanti di manada! A posto Halma! Ruf dove ti ha fatto a Gomez! Uff che paura Ruf! Rigore! Bene vai Salah! Fatto io! Ma come? Tiro e gol! Sei! Ah gli è andata bene eh! Fallo ancora a me! Uh per poco! Non è che puoi sempre fargli in tripletta! Ma posso farlo adesso! Sì proprio! Ancora ancora loro! Uh ah gli soldi! Uh grande ci salva sempre! Cacpo qui forza! Ah gliela do dai! Ci sono tiro e gol! Oh sì sì! E sì! Sì ci siamo riusciti! Siamo agli ottavi! Meglio degli originali! Ah puoi dirlo forte! Infatti anche contro Nottingham Forest ci siamo fatti fregare! Siamo riusciti a siglare un bel 1 a 0 nonostante Navas! Ehi Navas me ne frego! Tanto CR gli fa gol! Poi arriva il Mover Emperor e vi citiamo subito di far vedere chi siamo! Passaggio di Salah e 1 a 0 mio! Poi arriva il più 2 di Momo! E infine il 3 a 0 di l'USD! Fortissimi davvero! Ma io avrei una proposta! Cioè? Ti schipassimo un po'! Cosa? Dai su dopo un po' tutte queste partite rompono! Ah forse hai ragione! Però la giochi eh! Sì tranquillo nemmeno immaginavo! Via! Il primo gol della gara! Ho nata! Super portiere! La mette! E non dimenticherà questa giornata! Tre gol! Ok quindi sei voluto arrivare qui? Sì esatto ha un altro turno di Carabao Cup! Perché ma ci tieni così tanto adesso? Perché l'ho rivalutato! Ho pensato che possiamo fare un obiettivo che non è mai rilasciuto a nessuno in Inghilterra! Cioè? Il quadruple! Vuoi vincere tutte le cooperazioni inglesi? Esatto! Visto che abbiamo vinto il Community Shield siamo ancora in corsa! Però dobbiamo impegnarci! Forza! Oh! Palli in mezzo! Oh niente! Bene ottimo! Che se ne avevo un po' tiro a presa! Ha provato il tiro a giro! Uh! Che salgano è chiuso! Uh! Meno male! Sono solo solo tiro e gol! E andiamo grande! Eh sì! Dai facciamone un altro! In mezzo e niente neanche stavolta! Niente dagli angoli non entra mai! Attenzione pallone tiro e gol! Non ci credo! Ma che cavolo cosa hai inventato? Comunque ora rigori! Ah niente sono proprio una condanna! Attenzione Fabio ignorrete! Sì una sentenza! Alison parata! Non so come abbia fatto ma mi è andata bene! Parata! E parata! Uh! Inarrestabile! Tiro io e no ho sbagliato! Forza ti metti a fare i pallonetti da fenomeno! Rigore decisivo! Uh! Vediamo se paro anche questa! Tiro e parata! Ah! Grande Alison Becker! Ti si vuole bene! Bene! Ora la semifinale! Forza eh! Mi raccomando! Un campionato in Champions stiamo volando! Quindi mi raccomando! Assolutamente! Sono straconcentrato! Bene! Perché giochiamo con lo United! Cosa? Ma credevo fosse una coppettina facile io! E invece? Dai forza andiamo! Ah! Speriamo in bene! Palla buona sulla fascia ma persa! Cosa fai? Non è colpa mia! Speravo passasse sotto le gambe! Forza è buona questa! Passa tiro e gol! Non ci credo! Sì! Bei ricordi ragazzi eh! Poi è partito Simen! Oh cavoli mi dimentico sempre che con loro chiudi! Sì è grande! Uh! Quino male! Fabinho! Lancio sbagliato! Scusa mi era sentito Pirlo per un secondo! Prima di fare andesinaria e palo! Oddio che colpo! Questa è buona per me! Tiro e ho presa! Ma dai cavolo devi segnare! Tranquillo è finita! Oh bene allora la fin... No c'è il ritorno! Ah ok allora il ritorno... Eh no! Ma come no? C'è prima il primo turno di FA Cup! E allora falla tu visto che sei così bravo! Ok! Ma aspetta comunque hai... Palla buona per me ed è gol! Dai è andata bene! Ah sì e questo come lo chiami? Ah! 3 a 0! Ma pensa a te è assurro! Dai forza ora il ritorno... No! Primo un altro turno di FA Cup! Ma di già! Yes! E parto subito carico! Guarda! Eh ma cos'è un remida del gol? E non è finito qui e... Opla! Opla mi è piaciuto! È molto giovanile! Chiudiamolo! E rete! Vabbè allora fai quello che vuoi! Bene tripletta e ora forza il ritorno! Sì sì calmo però! Attenzione palla in mezzo ma chiusura facile! Tranquillo tranquillo! Bell'azione di sala in mezzo! Uh presa! Vale male! Rashford chiuso! Apposto! Tiago passa ci sono tiro e gol! Uh questa è ottima! Ancora parabola e gli stiats! Sì! Ma ci siamo quasi! Oh attenzione è finita siamo in finale! Sì andiamo! E ragazzi mi raccomando non perdetevi la finale nel prossimo episodio! E ovviamente tenteremo anche l'obiettivo quadruple! Eh ma Vano? Cosa c'è? Sto facendo... Abbiamo un altro problema! E quale? In Champions agli ottavi abbiamo peschato il PSG! Cosa? Oh no! Ah niente ragazzi non c'è una volta che mi vada bene un sorteggio! È una cosa incredibile! E forse che ce ne siano dei poveri e è diventato... Ma non lo so... Mbappé e Holland messi insieme! Non ne sbaglia uno! Ma vedete! Dalla prossima episodio basta! Non segna più! Vabbè! Comunque! Io spero che questo video vi sia piaciuto! Non dimenticate come al solito di lasciare un bel like! Iscrivervi al canale! E attivare la campanella! Mi raccomando! Inoltre vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare il mio libro! Prima di andare all'angolo dei saluti vi faccio una domanda! Secondo voi ce la faremo? A fare quadruple? Commentate con sì quadruple! O quadruple non so neanche come si dica vabbè! O no quadruple o quadruple qua sotto! Giusto per avere un minimo di sondaggio! Crucetami! Bene ma vanno alle ciance! Andiamo all'angolo dei saluti! Saluto Gabriele Pellerito! Ciao a Lori! Vanno sei migliore ti ringrazio ciao! Saluto OTXVSYT! Vuoi portare una carriera allenatore con la tua scuola del cuore? Con la Juve dovrei portarla? Non lo so! Allora in realtà c'è ancora la carriera allenatore con l'atletico marese che è lì! Tornerà probabilmente! Vediamo! Vediamo come va ancora c'è le sette dei poveri! Saluto Dommi1412 Ita! Saluto Johnny Yoti! Mi saluti più giusto che saluto ciao! Saluto Danilo Ricciardi! E infine per ultimo saluto ForzaRoyMpsilonT! Mi saluti più giusto che saluto ciao! Bene come al solito spero che questo video vi sia piaciuto! Ho già detto 200 volte più o meno! E noi come sempre ci vediamo una volta al giorno o barra due con un nuovo shorts o due! E il mercoledì e il mercoledì con altri due video lunghi! Bella raga ciao! Ah un ultimo appello! Se ci fosse per caso qualche gioco che vorreste che portassi oppure un qualche tipo di video commentate qua sotto! Questo lo metto alla fine! Vediamo chi ci arriva! Commentate qua sotto! Grazie raga! I vostri consigli sono sempre ben accetti! Ciao!